Siamo con Massimiana Costantino, neopresidente del Lions Foggia Host, storico Lions Club del capologo Dauno. L'esordio con il botto, il caso di dire, la prima raccolta fondi tramite un'iniziativa originale, il compleanno di Francesco Borgese. Che cosa avete programmato e poi i fondi raccolti a chi saranno destinati? Sì, l'evento appunto prevede un concerto di ben tre artisti, Fausto Leali, Michele Zarrillo e Luisa Corna. La location scelta è una location sicuramente prestigiosa, ovvero l'aula magna Valeria Spada del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia. I fondi raccolti saranno destinati in parte ad un service permanente del Lions, il servizio caniguida con il centro addestramento di limbiate. È uno dei service storici dei Lions. Il servizio caniguida nasce addirittura nel 1959 e dal 1986 è stato costituito come ente morale, come Ollus. E si occupa appunto dell'addestramento di caniguida che vengono scelti e poi donati a persone non vedenti. Si tratta di una struttura che comunque ha bisogno di fondi continui perché addestrare un cane dall'inizio alla fine è molto complicato e richiede numerose spese. E quindi diciamo noi siamo arrivati alla sesta edizione di questa manifestazione musica e solidarietà e la maggior parte delle volte abbiamo sempre donato fondi al servizio caniguida. Quest'anno però c'è una novità perché oltre al Lions Club Foggia Host parteciperanno tutti i Lions Club della zona e anche i Rotary. Abbiamo deciso di fare qualcosa anche per la nostra città, ovvero donare una parte dei fondi alla Fondazione Buon Samaritano che si occupa delle vittime di usura. Francesco Borgese, noto commercialista di Foggia, festeggerà il suo sessantesimo compleanno in un modo originale. Uno spettacolo musicale, musica e solidarietà con Luisa Cosna, Fausto Leali, Michele Zarrillo e il ricavato in beneficenza. Com'è nata l'idea? È nata per fare un bellissimo regalo per me, riunire tutti i club della nostra zona Lions e avere anche un bel regalo da parte dei Rotary. Riunire tutti i Rotary e avere un unico obiettivo, quello di fare un service tutti insieme. Avere tutti insieme con lo stesso service è qualcosa di stupendo e questo è il regalo più bello che io possa avere. Naturalmente doniamo una parte di soldi per il nostro service principale, che è Ixonica di Guida, la scuola di Kinaldimbiate. E l'altra parte è la fondazione del Buon Samaritano, che è un'iniziativa che volevo fare per Foggia. Foggia che oggi come oggi passiamo dei momenti critici, che lo sappiamo benissimo. Aiutare oggi il nostro territorio, la nostra gente è la cosa principale. Grazie a tutti.